È arrivato per l'Equador il momento del voto nelle elezioni più insanguinate nella storia del paese. Si chiude la campagna elettorale, costellata dalla violenza. A Quito, la capitale, è stato omaggiato Fernando Villavicenzo, il candidato del Movimento Construye, ucciso dalla criminalità organizzata la scorsa settimana. Il giornalista Cristian Zurita ha assunto la candidatura del collega assassinato, promettendo di portare avanti le sue idee. La sicurezza si deve a che io tengo il mismo perfil di peligro che Fernando Villavicenzo, perché le amenazze sempre sono, vamos por todos, no? E lui fu assassinato non per lo che dice, ma per lo che pensava di fare. E questo plan si basa soprattutto in lo che pensiamo di fare. La favorita nei sondaggi rimane la candidata Luisa González del Movimento Rivoluzione Cittadina, movimento guidato dall'ex presidente Rafael Correa, che è condannato a otto anni per corruzione grazie alle denunce di Villa Vicenzo. González ha chiuso la sua campagna elettorale a Guayaquil, il principale porto dell'Ecuador, e una delle città più afflitte dalla crisi. Questo non è l'Ecuador che meritiamo e che vogliamo, ha detto. L'ondata di crimini è dovuta al ruolo della criminalità organizzata e al narcotraffico, che ha guadagnato spazio nella zona costiera del paese. Qui i grandi porti sono usati per spedire la cocaina in Europa e negli Stati Uniti.